Capitolo 1 Genealogia di Gesù Cristo, figliuolo di Davide, figliuolo d'Abramo Abramo generò Isacco. Isacco generò Giacobbe. Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Fares generò Ezrom. Ezrom generò Aram. Aram generò Aminadab. Aminadab generò Naasson. Naasson generò Salmon. Salmon generò Boaz da Rahab. Boaz generò Obed da Rut. Obed generò Iesse e Iesse generò Davide, il re. E Davide generò Salomone, da quella che era stata moglie Duria. Salomone generò Roboamo. Roboamo generò Abia. Abia generò Asa. Asa generò Giosafat. Giosafat generò Joram. Joram generò Uzzia. Uzzia generò Joatam. Joatam generò Achatz. Achatz generò Ezechia. Ezechia generò Manasse. Manasse generò Amon. Amon generò Giosia. Amon generò Giosia. Giosia generò Ieconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. E dopo la deportazione in Babilonia, Ieconia generò Salatiel. Salatiel generò Zorobabel. Zorobabel generò Abiud. Abiud generò Eliachim. Eliachim generò Azor. Azor generò Sadok. Sadok generò Achim. Achim generò Eliud. Eliud generò Eleazzaro. Eleazzaro generò Mattan. Mattan generò Giacobbe. Giacobbe generò Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale nacque Gesù, che è chiamato Cristo. Così, da Abramo fino a Davide, sono in tutto quattordici generazioni, e da Davide fino alla deportazione, e dalla deportazione in Babilonia fino a Cristo, quattordici generazioni. Or la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe, e prima che fossero venuti a stare insieme, si trovò incinta, per virtù dello Spirito Santo. E Giuseppe, suo marito, essendo uomo giusto, e non volendo esporla ad infamia, si propose di lasciarla occultamente. Ma, mentre avea queste cose nell'animo, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo, Giuseppe, figliuolo di Davide, non temere di prendertè, comaria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato, è dallo Spirito Santo, ed ella partorirà un figliuolo, e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Or, tutto ciò avvenne, affinché si adempiesse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine sarà incinta, e partorirà un figliuolo, al quale sarà posto nome Emanuele, che, interpretato, vuol dire i Dio con noi. E Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato, e prese con sé sua moglie, e non la conobbe, finché la non ebbe partorito un figlio, e gli pose nome Gesù.